Buonasera e ben ritrovati in Affinity Dog. Sono Marzio Sala, presidente e direttore della scuola per educatori cinofili di Affinity Dog. Con questo video voglio raccontarvi perché sono diventato educatore cinofilo ed il mio percorso professionale. La prima volta che ho avuto a che fare con un cane ero in allevamento e mi occupavo delle pulizie dei box. Avevo circa 18 anni, mi sono innamorato follemente di queste creature e ho deciso di proseguire con la mia passione appena nata mettendo i soldi da parte per acquistare un cucciolo di pastore tedesco, razza della quale sono ancora appassionato ed anche innamorato. Con lui ho cominciato a praticare sport fino ad arrivare a partecipare a competizioni internazionali. Da lì in poi sentivo che dovevo cambiare e ho cominciato lavorare per il canile Il Canneto di Concorezzo, occupandomi dell'educazione dei cani e degli affidi. Erano gli anni 90 e con la proprietaria Simona Petrassi gestivamo circa 80 cani in maniera futuristica per l'epoca. Per migliorare il servizio feci formazione in Inghilterra presso la clinica del dottor John Rogerson diventando educatore cinofilo. Al mio ritorno in Italia con l'esperienza acquisita nell'utilità e difesa e in clinica in Inghilterra cominciai a occuparmi di cani aggressivi e con altri problemi di comportamento. Dopo tanti anni di campo e di lavoro a domicilio ho deciso insieme ad alcuni colleghi di aprire la scuola per educatori cinofili della quale tuttora sono presidente e direttore. In dieci anni abbiamo formato circa 120 professionisti. Oggi dopo più di vent'anni di lavoro dirigo il mio campo e le succursali in Sardegna e porto nei centri cinofili e nei canini la mia esperienza. Ho scritto due libri, il primo è intitolato Un giorno da cani come comprenderne il linguaggio che parla del metodo di lettura da me elaborato per comprendere il linguaggio del cane e il secondo è intitolato Anime dietro una rete, il canile dal punto di vista del cane che parla del mio modo di gestire un canile. Sono passati tanti anni ma la passione è sempre la stessa, è sempre quella del primo giorno perché i cani hanno migliorato e migliorano tutt'oggi la mia vita. Se vuoi conoscermi e conoscere i miei collaboratori scrivi una mail ad info-affinitydog.it, seguici sulla nostra pagina facebook affinitydog.educazione cinofila e sul nostro sito internet www.affinitydog.it